Quante famiglie distrutte. Perché papà e mamma non sono capaci di trovare la strada della pace e preferiscono la guerra, fare causa. La guerra distrugge. Da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Forse non vengono dalle vostre passioni e cuore. Io vi propongo oggi di pregare per la pace. La pace che soltanto sembra che è diventata una parola, niente di più. Perché questa parola abbia la capacità di agire. Eseguiamo il consiglio dell'Apostolo Giacomo. Riconoscete la vostra miseria.